Amici di Facebook di Cultura Attiva, buonasera, sono qua in questa splendida serata con degli artisti straordinari e sto parlando di Gio Valeriano, mettiamoci fuori in cordiluce, e Sabino De Bari. Ciao, ciao, ciao. E' una sorpresa bellissima, Gio Valeriano torna qua dopo il suo lavoro all'Anne Saint-Roe, ci dici giusto un pezzettino di cosa si tratta. Beh, è l'ultimo disco che parla, il disco di Cultura, e Gio Robi, la Bravi Meditiz, la Gio Valeriano, ci ha aiutato molto successo, i testi sono nuovi, i testi tradizionali, i poeti neri, e la Bucca. Benissimo, che significa per Gio Valeriano tornare ogni tanto a Dolphetta e poi in una bella manifestazione che rientra nel cartellone? Questa è stata una grande esperienza, e poi avere anche un po' di vero, e fare in questa esperienza è stata veramente ottima, perché perché abbiamo avuto un certo esplosimento adeguato e mi piace tantissimo. Una domanda al volo per gli amici di Cultura Attiva. L'onore di dirigere quattro artisti bravissimi, che cosa hai trovato su questa sensazione? Scusate, la musica è una rilascia filosofia, ma è un po' di vero. Grazie, buona serata a tutti, un saluto agli amici di Cultura Attiva. Grazie, grazie. Grazie.